buongiorno a tutti da roberto quaglia si consuma in questi giorni il sedicesimo anniversario dei fatti dell'undici settembre 2001 per chi oggi nei suoi vent'anni si tratta cose di un passato remoto storia antica poiché all'epoca essi erano bambini interessati a tutt'altro rispetto alle tragiche vicende del mondo per chi invece all'epoca era già adulto si tratta di un ricordo indelebile perché non c'è nessuno fra noi che all'epoca non è rimase completamente sconvolto in quei giorni avevamo più o meno tutti le stesse opinioni a riguardo credevamo agli stessi fatti potevamo avere interpretazioni diverse a riguardo ma sostanzialmente si viveva tutti in una stessa realtà le cose hanno iniziato a cambiare negli anni immediatamente successivi un francese Thierry Messin pubblicò nel 2002 un libro poi divenuto celebre in cui sosteneva l'insostenibile e cioè che semplicemente guardando le foto esistenti dell'attacco contro il pentagono si vedeva chiaramente che non c'era traccia alcuna che un aero si fosse veramente abbattuto lì è un po come i vestiti nuovi dell'imperatore nella famosa favola di Andersen tutti li vedono anche se non ci sono in questo caso tutti vedevano sulla scena del delitto un aereo che però visibilmente e sottolino visibilmente non c'era non c'era affatto come il bambino nella favola di Andersen Messin ha semplicemente fatto notare che se non c'era nessuna traccia dello schianto di un aereo la logica impone che non ci fosse stato alcun impatto di alcun aereo il re insomma era nudo come si suol dire e chiunque guardasse con gli occhi aperti avrebbe potuto vedere vedere che non c'era niente da vedere vi risparmio ora i dettagli di che cosa poi avvenne in seguito nella quindicina di anni che ci separano da quella rivelazione iniziale anche perché chi si è interessato della vicenda per somme linee lo sa già i fatti dell'11 settembre hanno fornito al governo degli stati uniti il più formidabile pretesto per muovere guerra contro qualsiasi nazione essa volesse attaccare fingendo di essere in realtà impegnata di una cosiddetta operazione di antiterrorismo un paese dopo l'altro veniva accusato di alloggiare o comunque sostenere il babbo natale del male osama bin laden e veniva quindi bombardato di conseguenza dopo un po tirare in ballo il babbo natale del male smise anche addirittura di essere necessario come nei serial tv e televisivi americani in ogni nuova stagione si mantiene sì il format ma si cambiano le facce dei buoni e dei cattivi di turno e così ecco che al qaeda diventa l'isis bush diventa obama che a sua volta diventa trump cambiano attori e figuranti ma il gioco rimane sempre lo stesso le differenze sono solo cosmetiche il pubblico appassionato non stacca gli occhi dal teleschermo ma nel teatro delle rappresentazioni l'11 settembre 2001 rappresenta il momento del grande scisma ontologico nella società occidentale cioè fra coloro che chi prima chi dopo chi più chi meno hanno smesso di credere fideisticamente alla realtà raccontata loro dai governi e dai loro pennivendoli e coloro che invece hanno scelto di inghiottire la pillola blu per rifarci alla celebre allegoria di matrix e sono quindi invece sprofondati senza peraltro accorgersene nella fede cieca di un'illusione artefatta che ad ogni anno che passa si discosta sempre di più dalla realtà si tratta di due mondi ormai separati e lontani e che si allontanano ogni giorno di più il ministero della verità nel mondo occidentale intenzionalmente da tutti i giorni in pasto al pubblico informazioni che sono contraddittori ed incompatibili trascinandolo sulla china della dissonanza cognitiva la dissonanza cognitiva è una brutta bestia per la mente umana poiché gettando la mente in una confusione che mina la fiducia nella propria capacità di capire il mondo la spinge a regredire a stati infantili in cui si finisce per cercare protezione nelle figure autoritarie in origine i propri genitori nel mondo reale adulto i politici e di loro pennirendoli mainstream uno dei risultati è che le parole quelle importanti non vogliono più dire nulla nel mondo occidentale gli impegni politici quelli importanti non vogliono più più dire nulla nel mondo occidentale qualsiasi cosa detta da qualsiasi politico occidentale oggi lascia il tempo che trova è irrilevante non è legata alla realtà e né soprattutto importa che non lo sia l'epopea di un trump che dichiara tutto il contrario di tutto quasi contemporaneamente è esemplare nel senso che questo è il futuro di tutta la società occidentale e per inciso è già anche il suo presente le parole e ciò che significano sono ormai un orpello decorativo non hanno più la funzione di significare ciò che significano devastata da questo tsunami di dissonanza cognitiva la mente del grosso della popolazione del mondo occidentale non è più in grado di distinguere fra coerenza ed incoerenza l'analfabetismo funzionale diventa così un problema endemico anche fra i cosiddetti intellettuali che di parole ne conoscono tantissime ma non si ricordano più così bene che cosa significhino quando esse formano delle frasi compiute in questi 16 anni dal scisma ontologico dell'11 settembre 2001 nuove parole magiche sono state inventate parole col potere di interrompere il pensiero critico in chiunque le oda compresi i suddetti pseudo intellettuali parole come complotto complottista parole che hanno ormai il magico potere di spegnere un cervello di bloccare ogni ragionamento sul nascere contaminandolo con tutti i crismi di una vera e propria tara mentale un oscurantismo che rievoca i tempi bui dell'inquisizione contro gli eretici e le accuse di eresia scagliate ad arbitrio politicanti occidentali di un certo ruolo come ad esempio il primo ministro britannico hanno auspicato la esplicita criminalizzazione e persecuzione giudiziaria del cosiddetto complottismo cioè in pratica di chi dichiara di non credere più alle balle sostenute da quegli stessi politicanti nell'orrore di chi comprende le catastrofiche implicazioni di un provvedimento del genere il greggio degli impasticati di pillola blu invece annuisce soddisfatto e gongolante il mainstream cogna l'etichetto dei nuovi mostri da perseguire come le fake news ma siamo qui di fronte ad un classico caso di psicologia proiettiva le peggiori fake news le spara proprio il mainstream stesso essi vedono i propri difetti negli altri ecco volevo parlare di 11 settembre ho finito per di parlare del nostro mondo di oggi ma è inevitabile perché il mondo di oggi è una conseguenza del mondo di ieri e nel mondo di ieri l'11 settembre è certamente in prima linea fra le cause che hanno forgiato il nostro attuale zeitgeist il nostro spirito dei tempi contemporanei allo studio di queste meccaniche io ho dedicato anni nella convinzione e questa ricordiamo la pillola rossa di matrix che abbia assai poco senso sprecare l'unica occasione che nell'eternità abbiamo di essere vivi a non capire un cazzo del mondo in cui viviamo ho quindi scritto due libri che raccolgono buona parte delle mie ricerche e dei miei ragionamenti sul mondo in cui ci tocca vivere il mito dell'11 settembre e il fondamentalismo hollywoodista questo sull'11 settembre è la seconda edizione del libro la prima che qui vedete è uscita nel 2006 mentre questa invece un anno dopo nel 2007 quest'anno quindi si compie il decimo anniversario il decimo compleanno di quest'opera nella sua forma italiana finale è incredibile a dirsi anzi verrebbe da dire purtroppo dopo dieci anni è ancora un libro vivo ed attuale al di là dei fatti che occupano la prima parte del libro sono i corollari e l'analisi le implicazioni e le estrapolazioni che si sviluppano nella seconda parte del libro che lo rendono ancora oggi un libro apprezzato dai lettori almeno a giudicare dai commenti dei lettori su amazon poiché oggi compie dieci anni festeggiamolo quindi con un paio di immagini tratte dal suo battesimo eccolo qui giovanissimo bologna fra le mani di dario fo qui invece eccolo a torino presentato dal filosofo gianni vattimo e dal presidente di reporter senza frontiere mimmo candito mentre qui lo vedete in edizione inglese fra le mani di william rodriguez già eroe del congresso americano per aver salvato molte persone da lettori poco prima che crollassero qui vedete rodriguez proprio in quei giorni stringere una mano ben diversa dalla mia ma in seguito rodriguez venne messo all'indice in america nonché sulla lista dei possibili terroristi quando iniziò a raccontare delle numerose esplosioni nel lettore di cui era stato testimone in prima persona poco prima che esse furono in effetti demolite quando io lo incontrai quando incontrai rodriguez e gli mi raccontò di essere probabilmente l'unica persona al mondo ad essere stata dichiarata un eroe dal congresso per poi incredibilmente finire sulla no fly list dei potenziali terroristi gli stati uniti d'america sono davvero una nazione dalle incredibili possibilità il mito dell'undice settembre quindi un libro che in questi dieci anni qualche bel giro se l'è fatto questa è l'edizione inglese che peraltro è la più aggiornata e c'è anche una versione in rumeno non stupitevi tuttavia se in dieci anni nessun giornale mainstream in italia ne abbia mai parlato o lo abbia anche solo menzionato di sfuggita anche una sola volta fosse anche per criticarlo nel paese che ha inventato la parola omerta essi avranno certamente i loro buoni motivi per tacere che forse sono i vostri buoni motivi per leggerlo il mito dell'undice settembre è un libro fortemente controindicato bisogna aggiungere in fondo nel bugiardino del prodotto controindicato per i tossici della pillola blu non credo che ve ne siano molti che stiano guardando questa immagine ma se per caso così fosse per favore evitate di comprare questo libro perché tanto poi non lo leggereste in dieci anni io ne ho regalate varie copie ad amici che a me si facevano e strafacevano di pillole blu ma era come offrire del narcan sapete l'antidoto dell'eroina ad un eroinomane e poi non ti puoi mica stupire se ti manda a fanculo cioè tu gli offri qualcosa che gli annulla gli effetti della roba che si è sparato in questo caso la pillola blu e poi speri che lui te ne sia grato ma va là ancora più incredibile è stato vedere un paio di amici che invece si sono letti il libro riuscendo però a dimenticarselo in tempo reale incredibile cioè io ero abituato all'idea delle cose che ti entrano da un orecchio per uscire dall'altro ma invece le cose che ti entrano da un occhio per uscire dall'altro occhio hanno aggiunto un nuovo tassello alla mia comprensione dell'umana follia quindi ragazzi se siete ascimmiati di pillole blu occhio a maneggiare roba come questa non fa per voi non siete in grado di reggerla comprendere come è stato costruito il mito dell'undici settembre è fondamentale per capire il mondo di oggi però è solo l'inizio chiamo questo momento il momento dello scismo ontologico poiché è proprio da allora che nella popolazione occidentale si è frazionato in due il modo di percepire elaborare ed assimilare l'informazione ma i mitografi di stato gli scrittori del mito i grandi maestri di ingegneria sociologica i quali progettono a tavolino le nostre illusioni non si sono certo fermati all'undici settembre la vera imponente fabbrica dei miti e dei sogni come sappiamo risiede ad hollywood ed ha la sua stretta collaborazione con il pentagono che per sua stessa missione vanto partecipa in prima persona alle sceneggiature è un mondo misterioso e sconosciuto che ho cercato di tratteggiare in una mia seguente e recente opera il fondamentalismo hollywoodista non è il compleanno anche di questo libro ma ne parlo ugualmente dato che esso riguarda la vita mentale di tutti noi che guardiamo i film e le serie televisive made in usa se un vecchio detto dice che noi siamo ciò che mangiamo un nuovo detto che mi sto inventando adesso hickett nunc un giorno dirà siamo ciò che vediamo in televisione in quest'ottica il fondamentalismo olivodista ci spiega perché siamo ciò che siamo mica merda eh dimenticatevi comunque le librerie per ora trovate entrambi questi libri soltanto su amazon.it se invece leggere vi riesce troppo difficile oppure fosse anche solo per stuzzicarvi l'appetito in questo anniversario vi raccomando la visione del film del 2013 di massimo mazzucco 11 settembre la nuova pearl harbor un documentario di ben 5 ore potete tranquillamente vederlo a rate come fate già con le serie televisive davvero di eccellente fattura la logica stringente di mazzucco unita ad immagini e documentazioni inequivocabile di sicuro non vi lasceranno imperturbati viene trasmesso proprio in questi giorni da pandora tv è utile ricordare ancora una volta che le orde di impasticati di pillole blu che confusamente latrano anatemi di sapore medievale contro di noi che al contrario di loro abbiamo non solo messo in dubbio ma dimostrato che le narrative mainstream sui fatti dell'11 settembre sono del tutto false e prive di senso ecco queste orde di strenui difensori delle verità di stato delle verità rivelate di stato non sono neppure in grado di leggere cose come i miei libri o guardare i film di mazzucco i loro anatemi che ruotano intorno alle parole magiche complottista complottismo parole in cui fanno sempre uso e abuso in sostituzione degli argomenti che ad essi mancano sono fondati sulla più risoluta ed intenzionale ignoranza dei fatti ignoranza che per viltà mentale deve rigorosamente rimanere tale ed è per questo che essi non solo non vogliono ma in realtà neppure possono leggere i miei libri o guardare documentari come quelli di mazzucco che scombussolerebbero il loro piccolo mondo di fallaci verità dogmatiche sono in molti sono ancora in troppi ed è proprio a causa loro e per questo che ce l'ho con loro e causa della loro ostinata cecità isterica che le cose ahimè sono come sono oggi che ci sono le guerre ed il terrore di cui essi magari oggi pure si lamentano ma che avvengono proprio perché loro si rifiutano di vedere l'inganno fenomeni che hanno le loro fondamenta proprio nell'operazione false flag di quell'11 settembre del 2001 nasce tutto da lì e continua tutto da lì perché non capiamo che cosa succede cosa accade quel giorno alcuni erroneamente considerano tutto questo una storia vecchia invece è il mito fondante dello zeitgeist in cui ci tocca vivere oggi e quindi ci riguarda tutti e fino a quando non capiremo come sono andate veramente le cose quel giorno e soprattutto come non sono andate ci toccherà subirne le conseguenze permettetevi di aggiungere queste conseguenze a quel punto ce le saremo pienamente meritate ora che avete visto la mia personalissima commemorazione dell'anniversario dell'11 settembre se credete potete riaccendere la tv per farvi due risate rigorosamente tragiche con le commemorazioni ufficiali per pandora tv punto it roberto guaglia no 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 no